Leonardo ha inventato di tutto, immaginato qualunque cosa, i sommergibili, i paracadute, gli elicotteri, i carri armati. Ci sono storici che hanno fatto l'elenco delle invenzioni in tempo di guerra negli ultimi decenni. Le cerniere lampo, le bustine di tè, il teflon, la fanta, le patatine fritte e la hutan. In Vietnam i chirurghi di guerra chiudevano spesso le ferite dei soldati con una supercolla inventata per l'occasione. Sì, tutto vero, ma naturalmente la ricerca è da completare. Nei laboratori chimici militari, per loro definizione segreti, scienziati di tutte le bandiere hanno pensato prodotti di tutt'altro genere. Armi chimiche e batteriologiche, i prite, ziclon, l'antrace, agente arancio per la defogliazione. C'è ancora qualcuno che sostiene che la guerra ha una sua moralità interiore? Che sia uno strumento per la risoluzione dei conflitti? A domani!